Sempre più operoso il Centro Sociale Anziani di Sulmona, che a dicembre del 2014, ottenuto dal comune i locali dell'ex caserma Pace, è ampliato le sue attività. Sono 300 i soci da gennaio ad oggi, si registrano 53 iscrizioni in più rispetto al 2014. Il bilancio è stato tracciato dal presidente Giacomo Spinosa stamane nella conferenza stampa di presentazione dello spettacolo Il Valzer di Margherita, che vedrà in scena domenica al Cinema Pacifico proprio gli ospiti del Centro Anziani, guidati da Marisa Azzurlo, presidente dell'Associazione Culturale Rianna. Grazie all'impegno al contributo del comune di Sulmona che ci ha permesso di cambiare la sede, ha spiegato il presidente Spinosa, abbiamo messo in campo una serie di iniziative per coinvolgere gli anziani nella vita sociale della città. Con la dottoressa Paola Tattaseo abbiamo parlato di sana alimentazione e benessere fisico con l'Associazione Rianna, abbiamo avviato un progetto sul teatro, accontentati anche gli amanti del ballo. Il nostro auspice è quello di entrare nelle scuole per rilacciare i rapporti nonno-nipote. Presto depositeremo nella nostra sede un libro dove raccogliere tutti i problemi della città, uno strumento utile che consegneremo all'amministrazione comunale. Io ho preso questa presidenza, eravamo intorno a 240 iscritti, attualmente l'anno scorso abbiamo chiuso 300 iscritti, abbiamo riconfermato 300 iscritti, però bisogna fare una valutazione anche perché sono soggetti che vanno dai 60 ai 90 anni e quindi abbiamo purtroppo delle mancanze annualmente, quindi 15-20% ogni anno che non rinnova la tessera è da mettere in conto. Quindi l'anno scorso abbiamo fatto 91 nuove iscrizioni, quest'anno ne abbiamo 53 nuove iscrizioni, quindi abbiamo pareggiato il discorso degli iscritti. I nostri locali sono sempre aperti, chi vuole partecipare viene dai nostri uffici, si informa e se vede che il riscontro è buono cercheremo di ampliare anche la platea dei soci. Però vogliamo anche un rapporto dagli anziani e le nuove generazioni, quindi non trascurriamo nulla che possa dare un risultato positivo a tutta la situazione della nostra città che è in una fase purtroppo critica. Spinnosa rinnova l'invito poi e una più via partecipazione. Chiunque può venire nel nostro centro anziani, ubicato in via Morrone, e prendere parte alle nostre attività. Grazie a tutti.